Siamo con Cristiano Catalini, parliamo i romanzi della Blacklist e tu sei artefice dei disegni? Sì, sono l'illustratore di questa collana che è edita da Lisciani Libri, è una collana di gialli di noir per ragazzi cresciutelli dai 14 ai 99 anni, quindi sono effettivamente dei thriller a tutti gli effetti, hanno una particolarità, sono illustrati da me e la vera particolarità è che ogni capitolo si apre con una illustrazione che introduce comunque sia dando maggiori riferimenti per il lettore che magari vuole contestualizzare anche visivamente la vicenda e hanno questo look che ricorda un pochino nell'idea quelli che erano dei volumi magari di gialli a fumetti di qualche anno fa, la mia idea nell'eseguire queste illustrazioni è stata quella dei Diabolic, delle sorelle Giussani negli anni 60, quindi anche come un formato molto accattivante, una grande varietà comunque sia di illustrazioni. Io letteralmente sono cresciuto con Phantomas, però la gente molti... e effettivamente anche loro riportavano questo stile di genere, anche se poi la gente è scomparso e nessuno lo leggeva più. Sì, diciamo che sono diventati prodotti di nicchia entrando nell'ottica del fumetto, un'operazione interessante che è quella che come casa editrice stiamo tentando di fare è proprio questa, di recuperare comunque sia l'importanza dell'immagine perché nella società moderna, nella quale non è vero che non si legga, si legge altro soprattutto per via dei mezzi tecnologici che ci sono, quindi smartphone, tablet, tutto quello che si può trovare nella rete, siamo bombardati di immagini ma abbiamo difficoltà magari a contestualizzare il testo e il contenuto visivo. L'idea di riportare in auge in qualche modo questo tipo di narrativa, tu mi hai fatto l'esempio di Phantomas, posso pensare a Satanic, a Criminal, a tutte quelle grandissime collane che negli anni 70 e 80 spopolavano, quindi Magnus, Romanini e anche al formato comunque sia, che è un formato più o meno tascabile, comodo e pratico da portare in giro. E' stata proprio un'idea per cercare di invogliare sia il lettore appassionato e quindi diciamo fedele che ricorda queste cose a incuriosirsi, a vedere di cosa si tratta, sia i giovani lettori che magari sono abituati a un altro tipo di comunicazione, un altro tipo di formato ad avvicinarsi alla lettura scoprendo magari qualcosa di bello. Grazie.